Hello children, this is teacher Annalisa. Welcome to my new lesson. This lesson is This is me. Questo sono io o questa sono io. In questa lezione impareremo a descrivere il colore dei capelli e il colore degli occhi. Ma ho scelto per voi un'immagine che ci aiuterà nella descrizione. Innanzitutto, vi ricordate come si dice capelli? Yes, well done. Capelli si dice hair. E vi ricordate come si dicono occhi? Pensateci bene. Yes, well done. Eyes. Quindi oggi impareremo a descrivere hair, capelli, e eyes, occhi. Ho scelto per voi appunto questa immagine che inizieremo a colorare insieme. Allora, cominciamo subito da hair. Sceglierò un colore per hair. Penso un attimo. Ok. Allora, ho scelto il colore blonde. Provate a pensare che colore posso aver scelto. Se dico blonde, è una parola molto simile all'italiano. Yes, biondi. Quindi, inizio a colorare questo ritratto dai capelli che sono blonde. Ok, adesso io sto colorando come al solito un po' in fretta e male, ma appunto voi dovrete invece farlo molto bene. Adesso devo scrivere la frase io ho i capelli biondi. Come devo fare? Innanzitutto devo capire come si dice io ho. Ho due possibilità. Allora, posso dirlo nella formula lunga che è I have got, oppure posso utilizzare la forma breve che è un po' più semplice e veloce da dire che è I have got. Ok? Allora, torniamo però alla formula lunga. Tutte e due state tranquilli che vanno bene, l'una o l'altra. Allora, continuo la frase con I have got. Vi ricordate come si diceva biondo? L'abbiamo detto poco fa. Blonde. Esatto. E come si diceva capelli? Hair. Benissimo. Well done. Allora, ecco la nostra frase. I have got blonde hair. Ok? Però andiamo avanti perché ci mancano gli occhi. Vi ricordate come si diceva occhi? Yes. Good. Very good. Eyes. Allora, gli eyes ho pensato di colorarli in green. Vi ricordate che colore è green? Yes. Verde. Ok. Adesso inizio a colorare un po' questi eyes in green. Così aggiungo due puntolini così di green. E passo subito alla descrizione. Devo dire io ho gli occhi verdi. Come posso fare? Come prima devo utilizzare I have got green. Esatto. E infine occhi. Eyes. Good. Ok. Quindi abbiamo completato la descrizione. I have got blonde hair. I have got green eyes. Posso fare la stessa cosa con la formula breve. I have got blonde hair. E allungo un po'. I got green eyes. Vedete? Cambia pochissimo perché in realtà devo solo ricordarmi di non utilizzare I have got ma I've got. Tutto il resto resta invariato. Ma passiamo a un secondo esempio per consolidare quello che abbiamo fatto da insieme. Allora in questo caso proviamo a scegliere nuovamente un colore per hair. Questa volta utilizzerò il nero. Vi ricordate come si dice nero? Yes. Black. Quindi andrò a colorare in black i capelli di questa girl. Ok. Io lo faccio sempre molto in velocità perché devo continuare con la spiegazione. Voi invece dovrete farlo super bene. Ok. Good. Allora adesso passiamo alla frase da scrivere. Come prima possiamo utilizzare la formula lunga. Ve la ricordate? I have got. E posso utilizzare invece la formula, la formula breve. Ma intanto ricominciamo. Scrivo qua. I have got. Ok. E qua scriverò la formula breve. E adesso possiamo andare avanti e aggiungere. Allora vi ricordate come si dice nero? Black. E allungo un po'. E vi ricordate come si diceva capelli? Ha. Ok. Adesso andiamo a completare anche la formula breve. I have got black. Ha. Ok. Adesso possiamo a scegliere un colore. We choose a color for eyes. I'm going to choose a color which in Italian is marrone. How do you say marrone in English? Very good. It's brown. Quindi vado a colorare in brown questa parte. Cercando di fare molta attenzione. E adesso posso andare a completare la frase che ho qua. Allora. I have got black hair. E adesso devo dire di nuovo. Io ho. Che si dice? I have got. Benissimo. E devo ricordarmi come si dice occhi marroni. Yes. Brown eyes. Good. Poi facciamo la stessa operazione sulla frase con la forma abbreviata. I've got brown eyes. e abbiamo completato le frasi che adesso farò nello stile che ho utilizzato precedentemente. Cerchiamolo. Giusto per essere un po' più ordinati. Ecco qua. E cambiamo colore e stile. Ok, abbiamo più o meno sistemato. Ok, giusto così. Allora, quindi, adesso andiamo a ripassare tutto quello che abbiamo fatto finora. Allora, al primo posto, nella frase, devo sempre mettere I've got oppure I have got. Posso scegliere la forma contratta, che è questa qua in alto, I've got, oppure la formula lunga I have got. Poi, secondo passo, devo scegliere il colore degli occhi. Quindi, prima devo pensare al colore e dopo aggiungere gli occhi. Il colore va sempre prima di qualsiasi oggetto. In inglese, prima va la qualità, l'aggettivo, e dopo l'oggetto. Fanno qualcosa che è il nostro contrario. Io dico, ho gli occhi marroni. Quindi, prima parlo degli occhi e dopo dico di che colore sono marroni. Gli inglesi fanno il contrario. I've got brown eyes. Quindi, prima sistemano il colore e poi ti dicono cos'è che ha quel colore. Fanno un po' il contrario. Quindi, al secondo posto devo scegliere il colore, che sarà blu, black, green oppure brown. E all'ultimo posto, appunto, l'ultima posizione è per l'oggetto, che in questo caso è eyes. Quindi, posso scegliere fra questi colori. Allora, e poi andiamo a vedere cosa abbiamo fatto con i capelli. Sempre al primo posto, I've got, oppure I have got. Al secondo posto va sempre il colore, blonde. Red, oppure ginger, nel caso di capelli rossi. Si può dire capelli rossi, si può dire in entrambi i modi. Poi, brown, marroni. E black, neri. Per aiutarvi ho utilizzato anche i colori che corrispondono, appunto, a quello che voglio dire. E l'ultima posizione è per hair, capelli. Quindi, I have got, scelgo il colore e solo alla fine dico hair. Ok? Allora, il compito che vi do da fare a casa è realizzare due ritratti sul quaderno, decidere il colore degli occhi e il colore dei capelli, e poi scrivere due piccole frasi di descrizione del ritratto proprio così come vi ho mostrato. Spero di essere stata chiara e ci vediamo alla prossima lezione. Thank you and bye bye!